Roma Info Mobilità, informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma. Un servizio realizzato da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane. Sulla linea BB1 della metropolitana si stanno registrando ritardi per il numero ridotto di treni in circolazione rispetto al programmato. Intanto nella zona di Piazza Re di Roma proseguono i lavori su Via Cerveteri e su Piazza Tarquinia è deviata la linea di bus 671. Sull'Aurelia all'altezza di Porta Pertusa ripristinati i percorsi delle linee 46 ed N5 in direzione del centro. I due collegamenti bus restano invece deviati in direzione della stazione di Montemario. In zona Eurmagliana invece cantiere a via Trequanda a spostarsi è la linea 775. Due notizie di viabilità prima di chiudere. Su via Aurelia Antica resta chiusa la corsia tra via delle Fornaci e via Leone XIII in direzione dell'Aurelia. Questo per un muro pericolante. Il traffico è deviato su via delle Fornaci. Intanto già da ieri sera sulla tangenziale direzione San Giovanni è stata riaperta l'uscita per la salaria direzione centro.